Spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione arrestati. Due uomini di 19 e 25 anni, entrambi originari del Marocco. Durante i controlli antidroga, nel pomeriggio di martedì scorso, gli agenti della squadra mobile di Como hanno fermato un'auto per effettuare una verifica. All'esito degli accertamenti, poliziotti hanno rilevato che due stranieri viaggiavano con un carico di droga. Nello specifico, due etti e mezzo di cocaina, 50 grammi di eroina e quasi 15 grammi di hashish. Inoltre, sarebbero stati in possesso di alcuni documenti di identità intestate a persone diverse, non presenti al momento del controllo. I due uomini però non avrebbero fornito spiegazioni chiare in grado di giustificarne il possesso. Entrambi sono stati dunque portati in questura e arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Grazie Grazie